Ciao a tutti ragazzi, sono in Sardegna, mi trovo a Perfugas, magnifico lago Coginas, vi faccio vedere le splendide carpe del Coginas, che erano come delle dannate. Ammo del 14 ragazzi, dico solo questo, guardate che meraviglia, splendide, meravigliose. Meravigliosa, ce ne proviamo ancora un'altra volta, adesso la rilasciamo andare subito. Ciao a tutti ragazzi, da Amici Fideofedelissimi, ciao.